Buongiorno, sono qui in via Manasse, qui al parcheggio pubblico, quello che poi viene utilizzato anche per andare all'Istituto Superiore Colombo e alle Pazzini. Sono alcuni genitori che mi hanno segnalato una situazione incresciosa. I bambini disabili sulla sedia a rotelle praticamente devono fare un'avventura per raggiungere le scuole, perché su questo marciapiede, come potete vedere là, non so se da qui si vede, ma abbiamo fatto un video dove si vede benissimo, praticamente tutte le interruzioni dei passaggi carrabili ci sono degli scalini, quindi è impossibile con la sedia a rotelle, o quantomeno è molto rischioso con la sedia a rotelle, superare questi scalini e i bambini rischiano proprio di cadere. C'è anche, se non sbaglio, un passaggio pedonale che da una parte ha uno scivolo e dall'altra c'è lo scalino, sempre su questo lato qui, no? Assolutamente e nel video lo vedremo dove addirittura si rimane incastrati, perché si scende perché sembra che ci si possa andare, poi in realtà c'è questa barriera architettonica di questo scalino. Un fatto veramente grave che porteremo all'attenzione della Commissione, perché non si può pensare che gli istituti gestiti, quindi da enti pubblici, sia dalla provincia sia dal comune, possano permettere una cosa del genere, rendendo difficile o impossibile, se uno prende il marciapiede, arrivare per i bambini alle scuole, perché purtroppo l'alternativa è quella di passare proprio per strada, con un rischio molto molto elevato. Io esco da questo parcheggio pubblico dove in fondo c'è posti anche per disabili, prendo questo marciapiede, è arrivato un fondo, devo tornare indietro perché non ho via d'uscita anche se c'è il passaggio pedonale. Praticamente è così, quindi le mamme, i genitori che sanno questa cosa, dal parcheggio pubblico, mettono i loro figli che sono sulla carrozzina, attraversano così e si mettono proprio in mezzo di strada e tutte le mattine devono portare i loro bambini passando, con grande rischio, passando proprio sulla carreggiata della strada. E non lo trovo assolutamente giusto, non lo troviamo assolutamente giusto. Sentiamo cosa ci dice il sindaco Salvetti quando lo portiamo in Commissione. e qui c'è Schiwold. Per salire di qua, ecco, perfetto, e qui siamo anche davanti ad un'altra scuola, eh? Questa è la condizione del marciapiede, però ci si passa, eh? Poi eccoci davanti al passio Carrabri, aspetta di ingresso della scuola, eccolo qui, istituto, e qui manca lo scalino, lo scivolo, c'è lo scalino, però perché la sede è vuota, no? Qui è un altro scalino, ma quando c'è una persona sopra, si è rovinato, non ce la fai, vai in mezzo di strada. Ecco, o meno male, è un marciapiede qui abbastanza buono. Allora, una buca si rimane incastrato con la ruota davanti. Poi, eccoci all'ultimo cancello, e qui siamo imprigionati perché non c'è nessun cartello di passo Carrabri, quindi, come vedete, ci sono le macchine, per cui uno, volendo, anche, dice, rinscendo, cioè, scendendo anche dal marciapiede, non può andare nemmeno in mezzo di strada. E qui lo scalino è artissimo, pericolosissimo, quindi non ci passi. E, di qua, uguale. Giriamo a sinistra, che c'è un passaggio pedonale, qui, cose di tutti i giorni, naturalmente, uno arriva al passaggio pedonale, guardate qua, due motorini, ma la cosa interessata è questa. Scalino si attraversa, parte la macchina parcheggiata, anche questa, mi sta male. Ecco, e di qua c'è lo scivolo. Cioè, quindi abbiamo uno scivolo qui, sempre mezzi parcheggiati, tanto quelli. E poi, lo rifaccio, il telefono basso, perché non voglio farvi delle carghe, i motorini, i scooter sul sul passaggio pedonale, e di qua manca lo scivolo.